Il comune di Loreto a Prutino, guidato dal sindaco Gabriele Starinieri, nei giorni scorsi ha stabilito che per il secondo anno consecutivo il comune aderirà al progetto della regione Abruzzo che garantirà il pesce fresco locale nei menu delle menze scolastiche per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e le prime classi della primaria. La misura 6.8 a favore della commercializzazione è un avviso pubblico della regione e finanziata con fondi PO FEAMP 2014-2020 che abbiano oggetto il prodotto ittico locale approvvigionato allo stato fresco e rifrigerato, ossia specie ittiche riconducibili ad attività di pesca in mare e condotte da unità di pesca iscritte ad imprese con unità operative in Abruzzo. Con questa misura l'ente può richiedere fino a un contributo massimo di 20.000 euro per progetto, finanziato interamente da regione Abruzzo di cui il 75% da finalizzare a spese riconducibili all'azione commerciale. Certo l'anno scorso è stato un successone con soddisfazione dell'utenza e la qualità che poi siamo riusciti a servire nei piatti dei bambini, quindi quest'anno stiamo aderendo di nuovo e credo che saremo assegnatari del bando. Abbiamo tutte le carte in regola, quindi una grande collaborazione anche con la cooperativa che ci fornisce il servizio della menza e soprattutto dei locali doni per poter preparare il pesce. Salute ma soprattutto, ecco si parla tanto di filiere corte e quindi l'attuazione di questo concetto. Con l'occasione il primo cittadino ha voluto inviare anche il proprio messaggio d'auguri per l'inizio del nuovo anno scolastico. Un augurio è la collaborazione che comunque è nella tradizione dell'amministrazione loretese e che devono sopportare qualche disagio perché abbiamo fatto già tanti lavori investendo anche soldi di proprio bilancio. Sono in corso tanti finanziamenti, ci sono progetti, tra qualche anno tutte le scuole di Loreto dal punto di vista sismico avranno il miglioramento. Grazie a tutti.